Il quadro di introduzione, giusto per entrare nell'argomento, portando alcuni dati che ho raccolto proprio in riferimento dell'evoluzione degli ultimi giorni del quadro geopolitico internazionale. C'è stata a Monaco a metà di febbraio circa una conferenza dove il ministro della difesa statunitense Mark Esper ha attaccato frontalmente la Cina e la Russia e cito testualmente ha detto la prima priorità degli Stati Uniti è attuale la strategia di difesa nazionale la quale proclama che viviamo in un'era di competizione tra grandi potenze in cui il nostro principale è contendente la Cina, seguita subito dopo dalla Russia, è che dobbiamo prendere le distanze dai conflitti a bassa intensità per prepararci di nuovo a una guerra ad alta intensità. 15-16 febbraio del 2020, quindi già in piena emergenza coronavirus. Parlo dello stato profondo, parlo delle forze che dominano e queste non solo dominano, ma vogliono dominare sempre più. Non apro il capitolo di come il Covid qualunque sia la sua origine venga usato, ma qui in questo ambiente, poi con Sara ovviamente, mi sembra evidente che c'è una grande manovra di potere, enorme, e non è solo una questione per realizzare più profitti, è una questione di privarci totalmente di qualunque facoltà di decidere il nostro destino. Cioè questo è il concetto, questo è il concetto, qualunque cosa possa capitare. Quindi quando parliamo di questioni militari non è che parliamo di comparti stagni, parliamo contemporaneamente di questioni politiche. In sostanza la NATO, la NATO fu fondata nel 49, ebbene per un diritto non scritto, e guardate bene, non è scritto in questa parte, chi è che comanda la NATO in Europa? Ovviamente alleanza militare, quindi il comandante supremo, tutto con le maiuscole, alleato in Europa, è sempre un generale statunitense nominato da presidente degli Stati Uniti d'America. E tutti gli altri comandi chiave, vedi il comando di Lago Patria a Napoli, appartengono agli Stati Uniti. Le basi principali, i comandi principali, sono o statunitensi o NATO sotto comando statunitense. Le armi nucleari che ha l'Italia. Piccolo particolare è tasciuto, no? Noi abbiamo, è notorio, certificato da documenti, leggete non solo la Federazione dei Scienziati Americani, ma quant'altro. Noi abbiamo bombe B61 attualmente, perlomeno ad Aviano e Ghedi, ma non si sa, non si sa, se siano per esempio a Ken Darby, che è il più grande arsenale USA al mondo fuori dalla Madepatia. Chiaro? Ripeto, il più grande arsenale statunitense fuori dal territorio degli Stati Uniti è Frappisa e Livorno, dove abito io, ed è Ken Darby. Quindi, in pratica, ora queste bombe verranno sostituite da altre, B61-12, non è un cambio di sigla, è un'arma molto più pericolosa, molto più pericolosa. In questo momento, mentre i nostri governanti nelle relazioni internazionali sfoderano grandi sorrisi magari, ora sono mascherati e non si vedono bene, ma in genere sorridono, sono sempre molto affabili, sono amici di tutti, sono amici di tutti, ma stiamo attenti, i nostri caccia Eurofighter e Typhoon in questo momento sono schierati ai confini con la Russia e volano per inseguire aerei russi che vanno nella esclave di Kaliningrad, per esempio. Cioè, tenere la situazione sotto pressione. Non voglio dire che siamo alla guerra, tenerla sotto pressione. Morale, in questo momento informo il Parlamento italiano che, se qualcuno ha la pazienza di andarsi a vedere, è in fase esecutiva il contratto di appalto per la costruzione, dentro la base di Gedi, di un'altra base che è per gli F-35. Si stanno costruendo 30 hangar per aereo, quindi ci annunciano che sono 30 aerei. Ogni aereo può portare due bombe nucleari nella propria stiva interna in conformazione STELS, cioè da penetrazione a bassa quota sottirata da nemici e quindi avremo un totale di 60 tra poco nuove bombe da fast strike nucleare B61-12. Va bene? A Gedi, a Gedi. E l'Italia ha firmato il trattato di non proliferazione delle armi nucleari che all'articolo 2 stabilisce che l'Italia non può ricevere da nessuno in nessuna forma direttamente o indirettamente armi nucleari. Noi violiamo questo trattato. L'ONU ha varato un trattato per la proibizione delle armi nucleari. L'Italia non può aderire. Perché? Perché è proibito dalla Nato. Anzi, lavora contro questo trattato. Questa è la realtà. Questa è l'alleanza che ci porta a che cosa? Ma mi sembra ovvio che se a Gedi, ma poi le abbiamo anche altrove, abbiamo armi nucleari, se a Niscemi c'è una delle quattro stazioni mondiali del MUOS, sistema di nuova generazione di trasmissione delle forze dovunque si trovino nel mondo e anche in movimento, è chiaro che questi diventano obiettivi. Allora, si informa qui ufficialmente il Parlamento italiano, si informano meglio con Putin, che in questo momento un missile russo è puntato su questi obiettivi, su Gedi, sul MUOS, eccetera, perché da parte Nato si fa altrettanto. Allora ci vogliamo trovare in mezzo a questa situazione. Allora, le vie sono quelle, rimuoviamo il problema, tanto non capiterà mai. Detto questo chiudo dicendo che qui ho parlato del problema guerra, ma quando parlo dell'influenza dei grandi potentati, che sono in genere non quelli visibili, non parlo tanto del Trump, poco raccomandabile ovviamente, come d'altronde lo era Obama, premio Nobel per la pace, che però ha fatto la guerra alla Libia, no? Ricordiamo. Ma parlo dello Stato profondo, parlo delle forze che dominano e queste non solo dominano, ma vogliono dominare sempre più. Libertà per Assange vuol dire che noi dobbiamo essere liberi, perché ci stanno imbavagliando non solo con queste, non solo con queste, ci stanno da tempo imbavagliando. Pensate, non so per andare ai tempi più recenti, la guerra del Vietnam. La guerra del Vietnam fu seguita da giornalisti, cameraman, che riportarono la guerra nella sua crudeltà, nella sua realtà, al di là della retorica con cui veniva motivata. E si suscitò un movimento enorme a livello internazionale e in particolare anche negli Stati Uniti, che funzionò da strumento potente di pressione, perché l'opinione pubblica si ribellava a una guerra di quel tipo. E questo ha contribuito, insieme ovviamente alla resistenza del popolo vietnamita, alla sconfitta per la prima volta della massima potenza mondiale degli Stati Uniti d'America. Successivamente però hanno imparato la lezione. Ed ecco che si parte già dalla prima guerra del Golfo nel 91, ma poi si accentua via via, il metodo dei giornalisti embedded. Cioè i giornalisti che sono irregimentati, a cui si fa vedere solo ciò che si vuole che vedano o sentano, i pochi giornalisti liberi vengono, vengono praticamente ostacolati in molti modi. Intanto rischiano la carriera, se fanno parte di un network importante, e poi rischiano molto di più. In Italia ne abbiamo pochissimi di giornalisti diversi. Quindi la guerra tende, come dire, a scomparire dal nostro orizzonte. Sembra non esistere. Oppure quando esiste è una guerra giusta, inevitabilmente, è una guerra umanitaria, perché è combattuta contro il dittatore di turno che sta reprimendo, sta massacrando il suo popolo. E questa è la guerra che ci presenta. Allora, andiamo a un esempio, oltre quelli che ha fatto Germana. Alcuni dei documenti più scottanti che sono stati portati alla luce da Wikileaks, perché Julian Assange è il fondatore di Wikileaks, ma poi chi lavora è Wikileaks. Quindi Wikileaks ha portato alla luce il carteggio della segretaria di Stato Hillary Clinton via mail su numerose situazioni. Ne emerge una, ma appunto non è la sola, ma comunque ne emerge una. Cioè c'è un scambio tra lei, allora segretaria di Stato, e il presidente francese Sarkozy. E quindi, da buoni amici, si dicono una cosa molto semplice. Bisogna fare presto a rovesciare Gheddafi in Libia, perché sta lavorando per usare le riserve aure della Libia per creare una moneta unica africana. E questa moneta unica danneggerebbe il franco-francese africano, il CFA, e anche il dollaro. Quindi muoviamoci in freddo. Questa è una delle, non l'unica, ma una delle motivazioni fondamentali per cui a suo tempo, siamo nel 2011, l'Italia entrò in guerra, stracciando un trattato con la Libia, attaccando un paese che assolutamente non ci aveva attaccato, ma ci offriva anzi anche degli accordi economici vantaggiosi, direi, ma che improvvisamente diventa lì il nemico. Il tutto costruito ovviamente sulla narrazione del Pentagono, della Nato e di altri, cioè che semplicemente c'era una ribellione di popolo, c'era un dittatore che stava reprimendo questo popolo e quindi noi portatori di democrazia intervenevamo per rimettere le cose a posto, per salvare vite umane. Questa era la storia, la storia narrata. Ricordo qui, ed è significativo in questo Parlamento, che praticamente la quasi totalità già allora, ma non solo allora, del Parlamento praticamente non solo votò a favore dell'entrata dell'Italia in guerra contro la Libia, ma caldeggiò, spinse per farlo. Soprattutto si distinse la sinistra, direi, la sinistra, fra virgolette, si distinse in questo. Volevano, volevano assolutamente che l'Italia entrasse in guerra. L'Italia dette praticamente nove basi a disposizioni, dette i suoi aerei, eccetera, e noi partecipammo naturalmente nella Nato e e naturalmente sotto comando statunitense. Ma già prima avevamo partecipato ad un'altra guerra contro la Federazione Jugoslava. La formula è ormai accettata. Ditemi un paese dove non ci sia un problema grosso interno, no? Ecco, lì ci sono due modi. O questo problema possa essere risolto attraverso una lotta democratica con tutti gli strumenti democratici, oppure c'è un altro modo per risolverlo. Io, potenza esterna, soffio sul fuoco, capito? Soffio sul fuoco per farlo divampare ancora di più e poi intervengo. È chiaro che in quel governo, in quel capo di quel paese, allora Milosevic, come Gheddafi, eccetera, ci sono tante cose che non vanno, ma vanno messe sullo sfondo storico. Per esempio, allora si dimenticava che l'Italia aveva avuto per 30 anni il dominio coloniale della Libia, insomma, piccoli particolari, il re Idris che era subentrato, eccetera, un colpo di stato di ufficiali nasseriani, cioè Gheddafi ed altri, che a un certo punto cambiano. Poi dopo, d'accordo, restano molto al potere, difetti gravi di democrazia, ma un paese che si stava trasformando. Morale, c'erano tutte le ragioni, anche per lamentarsi per chi viveva in Libia, non lo nascondo, come in qualunque parte del mondo, ma non era quella la ragione della guerra. La ragione della guerra è che la Libia possiede delle riserve petrolifiche, anche di gas naturale, più grosse dell'Africa. Ha una posizione geostrategica di importanza fondamentale. Infatti, alle porte di Tripoli c'erano la maggiore base Willus Field statunitense nucleare nel Mediterraneo. Quindi questa è una guerra vera, se uno scava sotto, è sempre motivata dalle antiche motivazioni di sempre. E in questa guerra, guerra, pagano i civili, perché chi ha pagato la demolizione? Perché come è stato fatto con la Jugoslavia, la tecnica ormai è quella che un paese, qualunque sia, io non sto dicendo che siano democrazie, non uso queste categorie, ma un paese che non sia sotto il controllo dell'impero, intendo l'Occidente, intendo, capeggiato agli Stati Uniti le maggiori potenze europee, le vere potenze europee, e non può stare, è un ostacolo. La Nato, dopo il crollo dell'URSS, si voleva allargare ad esse, c'era un ostacolo. La Federazione Jugoslava, non allineata, che era lì in mezzo, ma non era assolutamente anti-occidentale, assolutamente, era un paese fondamentalmente la cui economia era quella capitalistica, che accettava investimenti multinazionali, eccetera. Fu demolita, fu demolita letteralmente, e l'Italia, ricordo, col governo D'Alema partecipò alla demolizione della Federazione Jugoslava. E dopo l'Italia, col governo Berlusconi, quindi, vedete, sinistra, destra, categorie relative, demolì lo Stato libico. Con quali conseguenze? Che la Libia accoglieva allora oltre due milioni di immigrati africani, che furono le prime vittime tremende, drammi tremendi, e questa disgregazione poi ha portato a crescere, intensificare l'ulteriore dramma dei flussi migratori incontrollati, della fuga per la salvezza o comunque per venire a cercare una vita degna di essere vissuta con questa illusione, diciamo, in Europa. Quindi c'è una sequenza di fatti che ci fanno riflettere. Julian Assange non ha scoperto solo il caso specifico, ci fa vedere le ragioni che sono dietro, che sono dietro le guerre. E quindi ci interessa quello che dicevo. Per esempio, io faccio parte del Comitato Una guerra non nato, che è un comitato fondato da varie persone, tra cui ricordo Giulietto Chiesa, che voi conoscete, è Ferdinando Imposimato, presidente onorario della Suprema Corte di Cassazione, vi ricordo il suo libro sull'Italia, il paese delle saggi impunite, e abbiamo proseguito questa lotta con un semplice obiettivo, cioè un'Italia sovrana e neutrale, veramente. Sovrana e neutrale da chiunque cerchi di imporci decisioni che non corrispondono agli interessi della grande maggioranza del popolo italiano, che non vengano da reali decisioni, se volete, a volte anche sbagliate, prese dallo stesso Parlamento italiano. Ma qui abbiamo un'influenza enorme e qui devo dire che ho apprezzato, guardate, Sara, moltissimo, l'ho seguita in diretta streaming, la marcia della liberazione, l'ho seguita, appoggio tutti, tutti gli obiettivi. Ma io vedo un limite, nel senso che se parliamo di sovranità non si può parlare di sovranità a 180 gradi, bisogna parlare di sovranità a 360 gradi, cioè l'Unione Europea è indubbiamente un coacervo di interessi, di potenza che assolutamente non è l'Europa, non ci offendono a dire che questa è l'Europa, è un meccanismo di sfruttamento, di potere, eccetera. Ma dall'altra parte il dato è questo, che 21 dei 27 paesi dell'Unione Europea fanno parte della Nato. Finalmente il Parlamento applaude, vedete? Il Parlamento applaude. Lei è la vera voce del Parlamento? No, mi dispiace, non faccio questione di minoranza o maggioranza. il Parlamento applaude. Quindi, in sostanza, la Nato. La Nato fu fondata nel 49. Ebbene, per un diritto non scritto, e guardate bene, non è scritto in questa parte. Chi è che comanda la Nato in Europa? Ovviamente, alleanza militare. Quindi il comandante supremo, tutto con le maiuscole, alleato in Europa. E' sempre un generale statunitense nominato dal Presidente degli Stati Uniti d'America. E tutti gli altri comandi chiave, vedi il comando di Lago Patria a Napoli, appartengono agli Stati Uniti. Le basi principali, i comandi principali, sono o statunitensi o Nato sotto comando statunitense. Le armi nucleari che ha l'Italia, piccolo, particolare e tasciuto, no? Noi abbiamo, è notorio, certificato da documenti, leggete non solo la Federazione dei Scienziati Americani, ma quant'altro. Noi abbiamo bombe B61 attualmente, perlomeno ad Aviano e Ghedi, ma non si sa, non si sa, se siano per esempio a Ken Darby, che è il più grande arsenale USA al mondo fuori dalla Madre Patria. Chiaro? Ripeto, il più grande arsenale statunitense fuori dal territorio degli Stati Uniti è Frappisa e Livorno, dove abito io. Ed è Ken Darby. Quindi, in pratica, ora queste bombe verranno sostituite da altre, B61-12, non è un cambio di sigla, è un'arma molto più pericolosa, molto più pericolosa. In questo momento, mentre i nostri governanti nelle relazioni internazionali sfoderano grandi sorrisi, magari, ora sono mascherati e non si vedono bene, ma in genere sorridono, sono sempre molto affabili, sono amici di tutti, sono amici di tutti. Ma stiamo attenti, i nostri caccia Eurofighter e Typhoon in questo momento sono schierati ai confini con la Russia e volano per inseguire aerei russi che vanno nella esclave di Kaliningrad, per esempio. Cioè, tenere la situazione sotto pressione. Non voglio dire siamo alla guerra, tenere la sotto pressione. Morale, in questo momento informo il Parlamento italiano che, se qualcuno ha la pazienza di andarsene a vedere, è in fase esecutiva il contratto di appalto per la costruzione dentro la base di Gedi di un'altra base che è per gli F-35. Si stanno costruendo 30 hangar per aereo, quindi ci annunciano che sono 30 aerei. Ogni aereo può portare due bombe nucleari nella propria stiva interna in conformazione stealth, cioè da penetrazione a bassa quota sottirata da nemici e quindi avremo un totale di 60, tra poco, nuove bombe da F-Strike nucleare B61-12. Va bene? A Gedi, a Gedi. E l'Italia ha firmato il Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, che all'articolo 2 stabilisce che l'Italia non può ricevere da nessuno, in nessuna forma, direttamente o indirettamente armi nucleari. Noi violiamo questo trattato. L'ONU ha varato un trattato per la proibizione delle armi nucleari. L'Italia non può aderire. Perché? Perché è proibito dalla Nato, anzi, lavora contro questo trattato. Questa è la realtà. Questa è l'alleanza che ci porta a che cosa? Ma mi sembra ovvio che se a Gedi, ma poi lì abbiamo anche altrove, abbiamo armi nucleari. Se a Niscemi c'è una delle quattro stazioni mondiali del MUOS, sistema di nuova generazione di trasmissione delle forze dovunque si trovino nel mondo e anche in movimento, è chiaro che questi diventano obiettivi. Allora, si informa qui ufficialmente il Parlamento italiano, si informano meglio con Putin, che in questo momento un missile russa è puntato su questi obiettivi, su Gedi, sul MUOS, eccetera, perché da parte Nato si fa altrettanto. Allora, ci vogliamo trovare in mezzo a questa situazione? Allora, le vie sono quelle. Rimuoviamo il problema, tanto non capiterà mai. Detto questo, chiudo dicendo che qui ho parlato del problema guerra, ma quando parlo dell'influenza dei grandi potentati, che sono in genere non quelli visibili, non parlo tanto del Trump, poco raccomandabile ovviamente, come d'altronde lo era Obama, premio Nobel per la pace, che però ha fatto la guerra alla Libia, no? Ricordiamo. Ma parlo dello Stato profondo, parlo delle forze che dominano. E queste non solo dominano, ma vogliono dominare sempre più. Non apro il capitolo di come il Covid, qualunque sia la sua origine, venga usato. Ma qui, in questo ambiente, poi con Sara ovviamente, mi sembra evidente che c'è una grande manovra di potere, enorme. E non è solo una questione per realizzare più profitti, è una questione di privarci totalmente di qualunque facoltà di decidere il nostro destino. Cioè questo è il concetto, questo è il concetto. Qualunque cosa possa capitare. Quindi quando parliamo di questioni militari, non è che parliamo di comparti stagni, parliamo contemporaneamente di questioni politiche, sociali, economiche e tutto il resto. Pensate che l'Italia spende, in media, se voi dividete la spesa, per esempio guardati Milex, altre fonti serie che calcano la spesa, non solo quella del Ministero della Difesa, ma le altre spese, per esempio nel Ministero dello Sviluppo Economico. Se tu sommi questo, siamo a oltre, abbiamo superato 26 miliardi di euro l'anno, il che se fate semplicemente, lo può fare anche un bambino, la divisione, siamo a 70 milioni di euro al giorno. Ora l'ultima e chiudo, il recovery fund. Ah bello, ci vengono aiutare, sì ci vengono aiutare dandoci un cosiddetto aiuto in cui se andate a vedere oltre il 60% è costituito da capitali provenienti dal mercato internazionale di capitale, cioè delle grandi banche, che noi dovremo ripagare, noi e anche io ho i nipoti, i figli sono già cresciuti, anche i miei nipoti probabilmente dovranno pagare, no? Perché saranno con interessi esodi. In poche parole stiamo mettendo, stiamo, ci stanno facendo mettere la testa nel cappio, anzi però per dire contenti perché ora arrivano i miliardi. Intanto pensano a come investirli. Allora, poche parole, cito dati tipo di analisi difesa, che è favorevole ovviamente all'aumento della spessibilità, non mi interessa, ma sono tecnici di alto livello che studiano bene le cose. Allora mi riferisco a questi e non solo. Allora voi leggetevi il recovery fund, andate a vedere il Ministero della Difesa e il Ministero dello Sviluppo Economico, e trovate questi dati, che il Ministero della Difesa ha presentato già una serie di progetti del costo di 5 miliardi di euro da trarre e da recovery fund. Il Ministero del Sviluppo Economico ha presentato una lista per 25 miliardi di euro, vuol dire che 30 miliardi di euro vengono destinati al settore militare, i settori più avanzati, tra cui un aereo del futuro. Pensate, cioè, sesta generazione. Ora noi dobbiamo ancora attivare l'F35, che è di quinta generazione, che ci costerà, non si sa bene, 14-15 miliardi. Ma poi quando vola, non so, un piccolo particolare, quando vola, brucia, come dire, vai alla pompa, devi mettere la benzina, i ciarcinetti, questa macchina quanto consuma? Quello consuma qualcosina, qualcosina come 4 mila, 4 mila circa euro l'ora. Ogni ora un caccia che vola anche per esicitazione di consuma? Cioè, due stipendi medi lordi, se non erro, di un anno. Cioè, questo è il dato. Allora, 30 miliardi di dollari. Ora ci dicono che, dato che molti programmi militari tratti da recovery fund e si sovrappongono, il Ministero dello Sviluppo Economico forse riduce la richiesta da 25 a qualcosa che sarebbe 12,5 miliardi di euro. Quindi, diciamo, per essere ottimisti, si sta programmando di tirar fuori da recovery fund qualcosa che va dai, diciamo, grossomodo dai 17,5 ai 30 miliardi di euro, che dovremo ripagare noi cittadini, con gli interessi, per programmi militari di armi d'attacco. Attenti, perché io vorrei un mondo senza più armi, mi pare, siamo d'accordo, no? È utopia. Però realizzare un ridimensionamento drastico della spesa militare italiana è dimostrato che lo possiamo fare. Ed ecco l'imbavagliamento. Ecco qui la mascherina. Noi cittadini cosa contiamo in tutto questo. Ed ecco di nuovo la voce di Assange. La voce di Assange parla per tutti noi, è simbolo, simbolo di una persona che ha fatto questo non per fare i soldi, se no era chissà, lui aveva lo yacht, no? Cosa? Lui ha fatto, convinto di fare il lavoro, come giustamente, l'etica del giornalista. Voglio far venire fuori la verità. E lo ha fatto. E per questo, se è stradato negli Stati Uniti, pagherà per 175 anni di reclusione, per spionaggio. Allora, chiedo a questo Parlamento, a chi sta zitto, a chi fa finta di non vedere quanti, alcuni, poi lo dirà il padre di Assange, qualcuno si è mosso, qualche senatore, benissimo, meritevoli, ma direi la quasi totalità. Tace. Tace perché ignora tutto questo? O tace perché non si può sollevare la questione Assange se no Trump e Pompeo battono pugni sul tavolo? e te sai che la tua poltrona parlamentare te la puoi giocare, no? Allora uniformiamoci, votiamo le guerre, votiamo i 30 miliardi per i militari tratti da ricavere Fande, votiamo per l'asservimento dell'Italia, per la schiavizzazione di tutti noi, bello. Noi abbiamo dei bei rappresentanti di Parlamento. Complimenti, complimenti, davvero. Quindi ecco il valore enorme che non ci rendiamo conto di Giuliano Assange. Noi dobbiamo impedire che vada, perché se lui viene deportato per aver detto la libertà, per aver detto le cose libere e la verità, il domani non sono catastrofista, possiamo essere noi. Possiamo essere noi. La cosa che ora ho detto di un contratto eccetera sugli F-35 che ho scoperto, non so, da un minimo lavoro, da andare a vedere un contratto di un'impresa di Bari a cui è stato appaltato il lavoro a Gheri, potrebbe essere un segreto militare e domani mi esco con le manette, no? O sparisco. Cioè perché è talmente fantapolitico pensare questo? Quindi la battaglia, la lotta che dobbiamo condurre per Assange è una lotta per la nostra libertà. Questo è quello che abbiamo davanti. Lotta che effettivamente è durissima ma che è vitale, è vitale. Grazie.